Un evento che ha una lunga storia, ormai siamo all'11esima edizione e si cala in un anno straordinario che è quello di Pesaro Capitale e Terrenar Cultura, quindi con un'attenzione ancora maggiore soprattutto nei mesi di agosto sugli eventi che tengono insieme turismo ma anche cittadini. La forza di questo evento è stato di avere un forte appeal turistico, ma il turista trova le famiglie, trova le compagnie, trova i pesaresi, i gabicesi, i gradaresi che festeggiano questa serata semplice ma unica per la sua bellezza e semplicità. Quindi con Gradare e Gabice si rinnova questa strategia di Riviera e quest'anno anche la parte artistica ha voluto mandare un messaggio importante con diverse iniziative nei vari comuni e in particolar modo abbiamo scelto di continuare il rapporto con l'orchestra Casa Dei in particolar modo quest'anno che sono i 70 anni di Romagna Mia che è un vero inno nazionale popolare legato al ballo, legato alla cultura, legato alla tradizione e che è stato protagonista non a caso anche dell'ultimo festival di San Rebo. Quindi il 10 agosto non solo chilometri di festa, chilometri di cena in cui decine di migliaia di persone si ritroveranno per una serata unica vestita in bianco ma anche a seguire in Piazzale della Libertà che è un luogo che negli anni abbiamo riscoperto e dedicato al ballo, all'incontro, alla socialità, all'incontro tra i turisti e i cittadini l'opportunità del gran ballo, così è stata chiamata la serata con l'orchestra Casa Dei. Siamo contenti di continuare questo bel rapporto con Pesaro che è iniziato un paio di anni fa abbiamo fatto bellissime cose e quest'anno ci riproponiamo di fare una serata eccezionale in questa festa bellissima e noi ci saremo in piazza per far ballare la gente quindi quest'anno con i 70 anni di Romagna Mia il tema sarà proprio il ballo io ho ribattezzato questa festa dentro la festa a gran ballo d'estate perché vogliamo far ballare tutti i turisti, tutti gli amici di Pesaro, tutti i pesalesi, chiunque vorrà venire sarà una grande festa. Siamo più di 20 quintali di candela quindi migliaia e migliaia di fiammelle un migliaio di pali in legno che decorreranno tutto il lungomare quindi questi 10 chilometri di spiagge che illumineranno questa notte di queste candele sotto le stelle come tutti gli anni sarà un evento importante per Pesaro ma anche per le marche oltretutto c'è il classico dress code bianco anche quest'anno da rispettare speriamo sempre nella buona riuscita grazie anche al tempo e al vento perché il vento purtroppo con le candele non va molto d'accordo